Ciao a tutti i miei video, oggi voglio presentarvi l'alieno, un alieno però non è come, non sono tre, non è quello della collega, eccolo, è di plastica, qui la pentosina non c'è più, ha l'antenna bruciata, la marca giochi preziosi, l'ho preso una Marcos, il negozio vicino a Casemia, che se ne è abbastanza un cesareo, cioè qua, l'ho pagato 7,50, la marca giochi preziosi, il testore è il mio finito la pizza preferito, può sembrare identico a quello del film, ma un po' più piccolino a quello del film, poi, gli alieni della Toy Story Collection, non li ho trovati a quel negozio a Roma, c'è stato un negozio, qualche quello, era un coso enorme, non c'erano né Reds e gli alieni, quindi questo era l'alieno al prossimo video.